Oh sì sì sì, il terreno bello umido, poi una bella baita, con le caprette, poi un bel pranzetto tutti insieme, belli scarichi dopo una doccetta, un vinello buono e quel formaggetto al fieno che ci avevano dato. Aaaaaah! No, no! Ciao, ciao! Ah! Ciao! Ok, non mi Buddy! perché se Elon Musk vuole vendere cosa? pronto? no è chiuso adesso sono le sette e me sì ci sono andato a prendere due p***e una recensione buongiorno Gianluca buongiorno benvenuti in questa nuova stagione del podcast buongiorno 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 benvenuti buona sera buona sera pronto? il video è ancora in fase di montaggio si? poi? la dinamola fa te dai va pronto? allora il video della bicicletta è pronto? allora settimana prossima arriva è bello la impresa non arriva instagram instagram è bello oh chi ne tira? chi ne tira? è bello Oh, spettacolo. Oh, spettacolo. Oh, spettacolo. Oh, spettacolo. Oh, spettacolo. Porca putta.